Mazzara del Vallo nota come capitale della pesca non può che ripartire dalla pesca stessa e oggi sono veramente felice e onorato di ricevere oltre al mio coordinatore regionale Igor Gelarda Lorenzo Viviani che è l'emblema della tematica della pesca all'interno del dibattito all'interno della Lega e nelle aule parlamentari. Oggi partiamo da una proposta chiara che illustreremo durante questo incontro con la classe armatoriale. Mazzara del Vallo può vivere di turismo, può vivere di tanto altro ma bisogna ripartire dai settori primari e trainanti quale la pesca, un settore allo sbando, abbandonato dalla classe politica e che vogliamo riprendere e accompagnare in un percorso di rinascita all'interno del nostro territorio. Lo dobbiamo ai nostri genitori, ai nostri nonni e ai nostri figli. Mazzara del Vallo è in marineria, dobbiamo partire da questo. Quali possono essere le idee per il settore pesca di Mazzara? Iniziamo da dire che la marineria di Mazzara è l'orgoglio a livello nazionale, forse è una delle marinerie più importanti che abbiamo in Italia. Sicuramente a Mazzara sono presenti le imbarcazioni più grandi, gli strascici che pescano questa risorsa fondamentale che è il gambero rosso. Bisogna ripartire, il problema di Mazzara sono tanti, i problemi di Mazzara sono legati a, come tutti i problemi che ci sono in Italia, quindi legati alle importazioni, legati alla tracciabilità del prodotto che purtroppo a volte non c'è nei banchi, problemi che come possono essere il caro gasolio che per lo strascico soprattutto dà dei problemi enormi, ma ci sono anche dei problemi di carattere politico, dei trattati che dobbiamo fare, e dobbiamo farci valere con la Libia per far sì che in quelle acque libiche i nostri pescatori ci possano andare e non abbiano problemi di sorta con il governo libico, che in maniera unilaterale in passato ha dichiarato quelle acque come proprie. Quindi quale deve essere il ruolo della politica? Il ruolo della politica è l'incontro di oggi, mettere in contatto il nostro candidato sindaco per Mazzara che difenderà i diritti dei mazzaresi, la marineria, ma dei cittadini in generale, con il nostro deputato che è pescatore e che è biologo, quindi un esperto della cosa, metterle in contatto e far sì che si sviluppi una politica a 360 gradi, perché a noi quello che interessa è il riscatto complessivo di tutta l'isola, che passa attraverso questi tasselli fatti da passione e anche di professionalità e di capacità. Ecco, ovviamente questo incontro avviene in vista delle prossime amministrative, che vi saranno a Mazzara e il Valle, che qui vede come candidato sindaco della Lega, Giorgio Randazzo. Ecco, il dialogo con le altre forze del centrodestra, in questa prospettiva, può essere importante? Ci state già pensando anche a livello regionale, si parla di rimpasto. Ecco, c'è la possibilità che la Lega possa entrare in questa visione? Allora, il dialogo è sempre importante, sciocco sarebbe chi vi dicesse il contrario. Il rimpasto che sta facendo il presidente Musumeci a noi non riguarda, noi abbiamo solo un deputato che sta dando in qualche modo un appoggio al governo Musumeci. Noi abbiamo un progetto, un progetto forte, chiaro e preciso, che si basa su un uomo che è Giorgio Randazzo, ma si basa soprattutto su un progetto, che è il progetto della Lega. Se ci sono altre forze politiche che vogliono sposare questo progetto su Mazzara, saranno le benvenute e vuol dire che avranno a cuore gli interessi dei mazzaresi. Ecco, si parla di una sua candidatura anche come sindaco di Palermo, in antitesi un po' a quella che è l'amministrazione Orlando. E' così? C'è qualcosa di vero? Teniamo conto che il sindaco Orlando sarà in carica per i prossimi tre anni e mezzo. E' chiaro che la Lega aspirerà a mettere un sindaco valido, che ami i cittadini e che non faccia l'ambasciatore dei palermitani nel mondo, ma stia piuttosto attento ai problemi dei palermitani. Quindi questa è una cosa di cui si discuterà a tempo debito, ma vi assicuro che la Lega andrà, fra virgolette, diciamo così, all'assalto a Palazzo delle Aquile, perché i palermitani meritano anche a Palermo un governo del buon senso.